Siete alla ricerca di un metodo curativo e preventivo per sbarazzarvi degli insetti volanti e arrampicanti in modo efficace e duraturo? Basta un solo prodotto, Insect Terminator di Passat. Insect Terminator è l'unico prodotto efficace in grado di proteggere voi e la vostra casa da questi animali indesiderati. Da oltre 10 anni Insect Terminator vi offre piena soddisfazione grazie alla sua temibile efficacia. Potrete spruzzare il prodotto lungo la soglia delle porte, attorno alle finestre e su tutte le prese d'aria per un effetto preventivo. Così creerete una vera e propria barriera protettiva attorno alla vostra casa. Insect Terminator è indispensabile in tutte le stanze di casa. Iniziamo dalla cucina. Per terra e sul piano di lavoro per evitare il passaggio e la circolazione delle formiche. Sul talpeto e nel bidone della spazzatura per allontanare le mosche. Nei lavandini e nei sifoni per evitare la risalita degli insetti dagli scarichi. Infine potrete spruzzarlo sopra le tapparelle per impedire alle mosche e le zanzare di entrare in casa quando aprite le finestre. In sala potete spruzzarlo anche sul divano per evitare l'insediamento e la proliferazione degli animali nocivi. Pensate alla bajur e alle lampade che attirano per l'80% gli insetti a causa della luce e del calore che emanano. Non dimenticatevi l'interno del camino o della stufa attraverso cui gli insetti cercano di introdursi in casa e i caloriferi che diffondendo calore sono un'attrazione irresistibile per tutti gli insetti. Per quanto riguarda le finestre basta spruzzarlo sul contorno per proteggerle dalle aggressioni esterne. L'efficacia di Insect Terminator sta nella sua azione a contatto con l'insetto. Basta un singolo contatto per contaminarlo e farlo morire. In camera l'efficacia è garantita. Trattate moquette e tappeti per proteggerli dagli acari. Ma pensate anche alle tende per creare un vero muro difensivo contro l'ingresso di zanzare e mosche quando la finestra è aperta. Spruzzatelo leggermente attorno agli armadi per evitare l'insediamento delle tarme. Dal solaio alla cantina Insect Terminator è l'ideale. Vi riuscirà a proteggere a lungo contro tutti gli insetti indesiderati, volanti e arrampicanti come i ragni, le mosche, le zanzare, le formiche, le blatte e gli scarafaggi. Vediamo ora come si può usare in ambienti esterni. Ovviamente il primo posto da non dimenticare è il luogo dove mettete la spazzatura, per evitare gli attacchi delle vespe ogni volta che andate a buttare un sacchetto, oltre alla proliferazione delle mosche. Per passare dei momenti tranquilli in terrazzo senza essere aggrediti dalle zanzare, che non aspettano altro che pungervi, spruzzate sulle tende, sui parasole, sui tavoli e su tutti gli arredi del giardino. Potrete godervi dei momenti in famiglia senza il fastidio degli insetti. Insect Terminator è così efficace che potrete portarlo ovunque con voi, in auto, nella vostra casa delle vacanze, in camper o in tenda. Insect Terminator sarà il vostro alleato per delle vacanze serene e senza insetti. Ragni, formiche, mosche, zanzare, scarfaggi. Contro tutti questi insetti c'è un'unica soluzione. Insect Terminator torna oltre 10 anni allo scudo protettivo efficace per tutta la vostra casa. Insect Terminator è un prodotto Stone Guard di Passat.